Azione! Scusate, non ho... Mi sono dimenticato di... Ciao! No, sono qui a teatro che sto girando un video con i ragazzi. Dobbiamo fare un video. Ho fatto la prima... È chiaro, tu lo sai, sei... Sì, la prima è... Sì, sì, è presente. Sì, sì, infatti, c'era... Alla prima... C'era gente, però no... Tutto ordinato... Comunque, quando hai fatto la prima, dopo la seconda è una passeggiata. No, 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 no... Ma per l'aborto cielo, non ti voglio, non sono io. Poi decidi tu. Io... L'ho fatta. E dopo, tu, se non vuoi... Fai quando... Ci siamo? Chi era Paolo? Era un mio amico. Uno che non voleva fare il vaccino. Era un mio amico. Dovino... Grazie a tutti